Ancora truffo online nella retino, questa volta a cadere nelle mani di un truffatore seriale con alle spalle ben 17 denunce è stata una donna di Montevarchi. Il raggiro risale allo scorso ottobre, quando la signora, tratta da un'inserzione pubblicata su un sito di vendita riguardante un'auto da circa 3.000 euro, aveva preso contatti con l'inserzionista. Le aveva risposto una voce femminile che le aveva detto che l'auto era già stata prenotata da un altro acquirente, tuttavia se avesse versato immediatamente un anticipo di 500 euro ci sarebbe stata comunque la possibilità di acquistarne un'altra simile. Le due avevano così intavolato una trattativa concordando il versamento di una caparra su una carta prepagata intestata al marito della venditrice, ma dopo aver pagato, invece di avere l'auto, la donna aveva ricevuto un'ulteriore richiesta di denaro. La vittima a quel punto aveva chiesto di poter vedere l'auto, almeno conoscerne la targa. I venditori si erano dichiarati disposti a restituirle il denaro già percepito. Nei giorni successivi della caparra, però, nessuna traccia, la donna inoltre non era più riuscita a contattare telefonicamente la venditrice. A quel punto la signora si è rivolta alla polizia. Dopo una serie di indagini, gli agenti del commissariato di Montevarchi sono riusciti a risalire all'autore della truffa. Si tratta di un 54enne milanese ben noto alle forze dell'ordine. Era stato infatti già denunciato 17 volte per lo stesso reato in vari parti d'Italia.